Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio i giornali. Puntualmente noi siamo qui tutte le mattine ad aprire la giornata insieme a voi, anche lo spazio dell'informazione, il primo della giornata per quanto ci riguarda. Iniziamo con i giornali. Occhio i giornali appunto vi mostra le notizie principali sul resto del Calino e Corriere Adriatico e naturalmente come potete immaginare oggi c'è quasi una saturazione per quello che è avvenuto a Corinaldo proprio un anno fa. Però noi prima di entrare nelle pieghe dei giornali guardiamo anche l'almanacco, il santo del giorno e anche le previsioni del tempo e partiamo proprio con l'infografica che ci parla della giornata, del calendario di oggi. Oggi è sabato, 7 dicembre, Sant'Ambrogio. Il sole sorgerà alle 7.27 e tramonterà alle 16.31. Previsioni del tempo che sono all'insegna della variabilità, vedete il cielo si presenta sulla carta meno poco nuvoloso, non si esclude la presenza di banchi di nubi bassi in mattinata, naturalmente nella parte centro-settentrionale della regione, quindi nuvolosità un po' a corrente alternata, però le precipitazioni non sono date e le temperature saliranno anche di qualche millimetro della colonia di mercurio. Previsioni per domenica, tendenzialmente come potete vedere anche dalla simbologia è sul bello, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nelle zone interne più che altro e soprattutto sul crinale appenninico, sulla costa, quindi ci dovrebbe essere sole pieno, una bella domenica di sole per così dedicarsi un po' alle attività legate al Natale, visitare mercatini, ci sono tante attività che vengono effettuate in queste giornate e in cui il tempo aiuta sicuramente, quindi nessuna precipitazione. Le previsioni per lunedì sostanzialmente non cambiano, almeno sui nostri settori, un'intensificazione della nuvolosità si potrebbe verificare e compaiono le piogge, ma sono soltanto sui rilievi e sui quote collinari e le temperature anche sono in aumento. Come vi dicevo, ecco questa è archiviata la pagina del tempo e naturalmente anche quella del calendario, come vi dicevo i giornali fanno una disamina di tutto quello che è successo a Corinaldo, il Corriere Adriatico dedica ben 15 pagine, uno speciale approfondimento per dipanare un po' tutta la matassa e valutare tutti gli aspetti, quindi c'è una importante valutazione da parte di tutti i quotidiani di ciò che è successo. Allora apriamo subito la pagina di Ancona, come vedete subito sia l'apertura che la fotonotizia sono per Corinaldo, banda dello spray subito a processo, la procura nel giorno dell'anniversario della tragedia in discoteca, Corinaldo chiede il giudizio immediato per i sei ragazzi indagati e Corinaldo un anno dopo nella fotonotizia vedete strage mai più. Ancora nelle pagine di Macerata però altro tono di notizie, però si parla di nessuno vuole la casa degli orrori, anche qui un fatto di sangue, un fatto di cronaca, siamo nella casa di Pamela, è l'omicidio ferato che è avvenuto al suo interno, il proprietario prova ad affittare la mansarda di via Spalato, ma in vano e quindi giustamente lui dice anche io sono una vittima, una vittima ovviamente indiretta, però è una vittima di questo sanguinoso evento che è stato perpetrato appunto nel Maceratese. Poi i risvolti del terremoto, sali inagibili, nuova vita per la biblioteca statale, dice noi la sua direttrice, più forti del sisma. Nelle pagine, ecco qua, quella di Peso del Corriere Adriatico, presenta questo speciale, Corinaldo, un anno dopo, da pagina 23 a pagina 38, un inserto lungo e dettagliato su tutto quello che è successo, ma anche sul dopo, sul dopo Corinaldo, sul dopo strage. C'è anche la cronaca, brucia le foglie e innesca un incendio che poi sfocia anche in un'esplosione, siamo in una zona di Pantano a Pesaro, dove anche residenti sul piede di guerra per Santa Veneranda e il traffico, e poi anche in vista delle elezioni regionali, il PD va avanti con Ceriscioli, ma ci sono anche altri movems sempre legati alla politica. La pagina di Pesaro, anche qui a tutta pagina su ciò che è avvenuto a Corinaldo, è una famiglia che è, come dice il titolo, schiacciata dal dolore, quella di Benedetta Vitali, la nostra concittadina, e anche qui l'apertura è per la banda dello spray che deve andare subito a processo, la procura vuole accorciare i tempi per il processo. L'intervista alla famiglia di Benedetta che vedete qui radunata, in un momento in cui parlano con il cronista Benedetta, dice, uccisa da gente senza scrupoli, parlano i genitori, il fratello quindicenne della ragazza scomparsa, la lanterna azzurra, il quale dice ma come fa quel sindaco a sentirsi tranquillo, perché in questa vicenda c'è più di un protagonista, soprattutto oltre a quelli che hanno perpetrato l'atto cruento che ha innescato tutto, ci sono anche coloro che hanno permesso tutto questo e la procura e le indagini dovranno chiarire le responsabilità. Andiamo a Pesaro, ponte di Via Lamarca, il calcio a struzzo è poco resistente, ecco le relazioni dopo le verifiche effettuate, lavori previsti dal 5 febbraio al 9 aprile. Giudizio immediato appunto per la strage di Corinaldo, anche il resto del Carlino titola in questo modo, lo ha chiesto la procura di Ancona, proprio alla vigilia dell'anniversario nel Mirino, i sei giovani mondenesi accusati di aver scatenato l'inferno per rubare catenine e collanine. San Santa Veneranda, la rabbia dei residenti, la rabbia dei residenti che scende in campo, comitato vedete ora basta, la circolazione, il traffico intenso è questo l'imputato alla sbarra, domani parte la protesta alle 14.30 proprio mentre arrivano i pullman per Candele a Candelara. e insomma questo è il modo per farsi sentire, se no altrimenti veramente c'è poco spazio, allora creare un po' di rumors. Il rompicapo di via Respighi è una situazione surreale, gli abitanti dopo l'incontro in comune c'è un Enpass che resta, ma insieme all'Enpass restano anche le buche, vedete qui un incontro dei residenti con l'assessore Belloni. Rabbia di Santa Veneranda, anche il Corriere Adriatico parla di questo, noi in strada, arco presidiato, non passeranno da qui i pullman, si cerca di focalizzare l'attenzione e mettere un po' alle strette le amministrazioni per cercare soluzioni veloci, proprio creando, brutto dirlo, qualche disagio, ma questo è così e questo è sempre avvenuto. Vuole fare un rogo sulle foglie in giardino, ma perde il controllo delle fiamme, una tannica con un diluente viene aggredita dalle fiamme, una tannica che si trovava in terra e così si innesca una esplosione e quindi l'uomo è rimasto ustionato al volto e a un braccio, vigili del fuoco, come vedete nelle foto, in azione a Pantano, questo è il punto dove è andato a fuoco il cumulo di foglie. Si parla anche di Piazzale Primo Maggio, un informe parcheggio selvaggio, eccolo qua, nelle foto ben documentate e quindi andiamo verso una protesta anche in questo senso, abbiamo versato la quota delle luminarie natalizie, ma gli addobbi sono scarsi e quindi c'è malumore anche in Piazzale Primo Maggio tra sosta selvaggia e scarsa illuminazione. Referendum, c'è l'istanza, ne apriamo le pagine di Fano, parliamo del digestore, cambiamo argomento, un altro argomento abbastanza caldo sulle cronache fanesi, c'è l'istanza presentata dal comitato promotore per un referendum popolare, presentate le firme depositate, 464 firme per un giudizio dei cittadini sul digestore anaerobico e del vecchio, l'ex consigliere comunale dice il sindaco chiarisca la sua posizione perché non gli sembra affatto chiara. Viabilità, si parla anche del problema di Santorso, critiche anche per le piste ciclabili, nell'incontro della Lega si lamenta l'inadeguatezza degli interventi e le precarietà delle vie, anche le vie limitrofe, come vi abbiamo anche fatto vedere in un servizio recentemente, insomma Santorso ha bisogno di altre cure aggiuntive. In arrivo 700 giovanissimi atleti, cambiamo tono di notizia, parliamo di sport, tra il 27 e il 29 dicembre arriveranno 700 atleti under a 16 da Serbia e da mezza Italia praticamente, anzi da tre quarti di Italia per disputare questo torneo di volley di fine anno, la Volley Cup organizzata dalla Virtus, partecipano 70 squadre di cui sei appunto dalla Serbia, un bel momento di sport ma un bel momento anche per il nostro comparto economico ricettivo che sicuramente avrà qualcosa come un migliaio di persone che stazioneranno su Fano e questo è quanto da sempre auspicato dagli operatori commerciali dove lo sport deve essere anche un po' il volano per mantenere alta l'economia di settore in momenti in cui non ci sono grosse presenze e speriamo che si vada verso questa direzione. La pagina di Fano, del resto del calino, parla dell'avvicendamento della Conad, nella Oceania e quindi che gestisce il supermercato, la speranza di tutti gli amministratori e anche delle organizzazioni sindacali che tutte le referenze, ovvero tutti i posti di lavoro vengano mantenute e anche questo il desiderio è l'auspicio del Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Minardi che chiede appunto un focus su questo passaggio, un passaggio che sia indolore dal punto di vista occupazionale e quindi Minardi dice imprescindibile la salvaguardia dell'occupazione. Facciano pure i cambi che vogliono ma rimaniamo e manteniamo l'occupazione. Nella pagina sempre interna di quelle di Fano si parla di un altro luogo importante per Fano per il turismo, ovvero si parla dell'area del Teatro Romano, un'area bellissima, non visitabile adesso perché c'è un contenzioso che sembra aver trovato la fine, se questo Teatro Romano verrà riportato alla disponibilità di turisti e di fanesi, tutti quelli che vengono a Fano veramente sarebbe un altro gioiellino, un'altra perla di cui Fano potrà andare fiera e mostrare le sue radici romane e quindi passerà al comune, è fatta, dice Assessore Cucchiarini, Assessore al patrimonio, anche passerà al comune entro fine anno, quindi un bel momento da questo punto di vista per il nostro patrimonio storico-culturale. I festeggiamenti per il Natale che stridono un po' con questo momento così triste e di riflessione per quello che è successo a Corinaldo sono due cose che sembrano essere sicuramente stridenti fra loro ma se vogliamo proprio andare a ricercare lo spirito più profondo del Natale, forse così lontane non sono, però i festeggiamenti ci sono e la piazza si animerà con cori e con altre attività, le feste sono ovviamente già iniziate però la piazza e via Garibaldi, la via dei Ciliegi, così rinnovata, così bella, sarà a disposizione di tutti i bambini che vedono sicuramente nel Natale un momento di grande festa e di grande gioia. Vallefoglia, andiamo nelle pagine che riguardano un po' il nostro entroterra, andiamo a Bombaroccio dove anche qui si punta al gran finale e l'ultimo fine settimana del mercatino Natale a Bombaroccio è uno dei borghi più belli sicuramente della zona che si tira lucido in questo periodo e ci si aspetta il pienone con pullman che vengono da ogni parte d'Italia, dal sud e anche dal nord per visitare uno dei borghi che ha investito di più e da tempo sul mercatino e quindi sta raccogliendo adesso sicuramente i frutti. C'è cronaca nelle pagine del Corriere Adriatico, siamo a Vallefoglia, furti nelle scuole, case e ospedale, ladri in azione tra Vallefoglia e Montelabate e anche al San Salvatore è stato rubato un cellulare ad un'infermiera che stava lavorando. Dalla Valmetaro invece andiamo a Fossombrone anche qui il Natale è proprio sulla rampa di lancio, cesti di Natale, campagna solidale anche per le cure dei bambini non guaribili, vedete anche le altre facce forse più calzanti sullo spirito natalizio che vengono fuori e quindi la solidarietà e tutto il resto. Nella Val Cesano siamo a San Lorenzo in campo, la notizia viva di questa zona è appunto questo impianto di allevamento intensivo della ditta Fileni che sta tenendo alta l'attenzione tra amministratori, cittadini, insomma è quindi un braccio di ferro ad oltranza, convocata dal sindaco un'assemblea pubblica appunto sul progetto della ditta Fileni il progetto che ha in serbo per questa zona. Andiamo nelle pagine di Urbino, gemellaggio all'insegna dell'arte, sei urbinati espongono a Comiso e quindi la collettiva domani 18 dicembre sarà ricambiata poi in primavera, quindi questo interscambio culturale tra Urbino e Comiso e tutti gli auspici dei sindaci di ambedue i comuni per un proficuo proseguo su questa linea d'onda per quanto riguarda la cultura. Il resto del Carlino parla dell'avvio insomma con luci e spettacoli anche del Natale ad Urbino, l'amministrazione comunale ha stanziato 30.000 euro e altrettanti li mette a disposizione Urbino Servizi, quindi per un Natale degno di tale nome per la città ducale che tanti turisti raccoglie anche in questo periodo, ricordiamo le tante iniziative molto belle ma sicuramente la via dei presepi è una delle perle del Natale di Urbino che merita sicuramente di essere vista. Da Senigallia la Corsa del Comune è per Volpini, si parla qui di prossime elezioni comunali perché l'era Mangialardi la possiamo archiviare, due mandati, grande appeal con tutta la cittadinanza ma adesso si cerca di andare nel segno della continuità, Volpini è della sua stessa area politica e quindi si inizia con un assist, un assist di quelli proprio belli diretti, un assist di 5 liste che porterebbero Fabrizio Volpini, consigliere regionale attualmente con delega sulla sanità a rivestire la carica di primo cittadino nella città di Senigallia. Per quanto riguarda invece il resto del Callino si punta sui risvolti delle mareggiate con la rabbia dei comitati che vogliono subito i soldi dalla regione con i primi stanziamenti per incominciare a vedere un po' di sole dopo le mareggiate che hanno devastato tutta la costa e quindi anche gli impianti e le concessioni balneari sono state sicuramente flagellate da queste due mareggiate che si sono verificate a novembre e quindi chiesta anche una maggiore protezione, quindi insomma da Senigallia, Montemarciano insomma tutti coloro che hanno subito danni chiedono che la regione intervenga subito. Vi rifacciamo rivedere le pagine di apertura, infine rassegna come di consueto e la pagina di Ancona come anche quella di Pesaro apre a tutta pagina sulla vicenda di Corinaldo la strage di Corinaldo, banda dello spray subito a processo la procura del giorno dell'anniversario della tragedia della discoteca Lantana Azzurra chiede il giudizio immediato per i sei ragazzi indagati e poi Corinaldo un anno dopo mai più nella pagina di Ancona questa è la pagina di Ancona, quella di Macerata si parla della casa degli orrori quella dove è stato perpetrato l'omicidio di Pamela e il proprietario si trova in grande impasso perché non riesce ad affittare o a vendere la mansarda di via Spalato e dice anch'io vittima di quanto è successo. Invece due pagine del Corriere Adriatico di Pesaro e quella del resto del Callino sono a tutta pagina su Corinaldo. Corinaldo un anno dopo nel Corriere c'è un lungo speciale da pagina 23 a pagina 38, 15 pagine dove si ripercorre tutto quello che è accaduto e quello che accadrà e che sta accadendo anche tuttora sulla vicenda di Corinaldo e i residenti in strada dateci la bretella, qui si parla di Santa Veneranda e di quanto sia soffocante il traffico in quel cuneo praticamente in cui si imbuca la strada per andare anche a Candelara e i residenti di Santa Veneranda sono sul piede di guerra per questo traffico che li sta soffocando e questa è la pagina di Pesaro del resto del Carlino fotonotizia per la famiglia di Benni che parla di un dolore che li sta schiacciando proprio in queste ore, in questi giorni per rivivere un po' tutto quello che è accaduto un anno fa. La banda dello spray subito a processo, anche qui il resto del Carlino parla della richiesta della procura nel giorno proprio dell'anniversario della strage nella discoteca, chiede appunto il giudizio immediato per i sei ragazzi indagati. Bene, questo era quanto per la rassena stampa di oggi di sabato l'ultima della settimana, noi ci rivedremo qui in questo spazio lunedì mattina alle sette puntualmente, questa sera vi ricordo che non c'è il nostro telegiornale o che la notizia però come sempre a fine settimana abbiamo il nostro magazine che ripercorre un po' tutte le notizie principali dal lunedì al venerdì che avete visto nei nostri telegiornali. Quello che Riccardo Sora, il nostro regista appena mandato in onda è il numero che avete a disposizione per ovviamente entrare in contatto con la nostra redazione, con i nostri giornalisti o soltanto per mandarci delle foto o farci delle segnalazioni. Bene, questo è quanto signori, grazie per essere stati in nostra compagnia e noi torniamo lunedì con occhio ai giornali. Grazie e buon fine settimana a tutti voi.